La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati contro il verdetto di secondo grado. Secondo l'accusa, Giovanni De Santis, Francesco Pitarresi e Umberto Centineo, insieme ai complici processati e condannati in abbreviato, avrebbero taglieggiato i titolari di una ditta di trasporti di bagheria. A tutti è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso. Due degli imputati erano i gestori di un noto ristorante palermitano, il Bucatino, che diede il nome all'operazione dei carabinieri. La vicenda parte nel 2012 dal furto ai danni della ditta di trasporti di un camion carico di elettrodomestici per un valore di circa 170.000 euro. Per recuperare la merce, le vittime si rivolgono alla mafia. Nei locali del Bucatino incontrano De Santis, che vantando la sua appartenenza al clan di Palermo Centro, si offre di recuperare il bottino e di proteggere gli imprenditori in cambio di 15.000 euro da versare entro Natale e di altri 1.500 euro al mese. Nella ricerca del colpevole e del furto, i boss concentrano i loro sospetti su alcuni dipendenti della ditta che vengono pestati a sangue. I carabinieri, indagando sull'episodio, arrivano a De Santis, che viene arrestato. Da allora si innesca un escalation di minacce, richieste di 200.000 euro di risarcimento del danno per l'arresto seguito al pestaggio e le vittime sono costrette a lasciare la Sicilia. L'imprenditore, disperato, è perfino pronto a vendersi un polmone per pagare il pizzo. Solo dopo mesi le vittime si convincono a denunciare tutto ai carabinieri.